bentornati qua sul canale del darione oggi è venerdì ed è il giorno di puki qua sul canale prima di andare avanti però vi ricordo di cliccare sulla campanella se volete essere aggiornati con tutti i video che escono qua sul canale e entrare sul gruppo telegram dove c'è un topic puki con un sacco di ragazzi che hanno investito tanto palline leggendarie robe pazzesche e vi faccio anche vedere prima di andare avanti nel video se riusciamo insomma come è andata la mia game week 66 vediamo se me la fa vedere ecco qua ecco qua ora vi ci porto completed completed eccoci qua andiamola a vedere 66 e andiamoci a vedere la japanese league con il mio risultato che è eccolo qua discover your match decimo sono arrivato decimo subito nel prima senza con una pallina senza nulla sopra qui fa vedere che cosa ho vinto e sono arrivato primo però ora ve lo faccio vedere nella base eccola qua quindi ho vinto la j1 base pro quindi quella con le palline senza alcun tipo di upgrade ma detto ciò la cosa importante di oggi in realtà è che andiamo a sentire claudio co founder col fratello di puki quindi insomma è stata un'intervista veramente molto bella in cui emerge tantissimo lo spirito dell'azienda con cui io sono contentissimo di collaborare ma insomma poche parole ecco qua l'intervista claudio eccoci qua amici e amiche del canale spettatori e spettatrici del mio canale come vi avevo promesso insomma è anticipato in un paio di video che avevate visto su puki è qui con me oggi claudio rifeser uno dei fondatori e uno insomma degli amministratori attuali dei di puki stesso io intanto saluto claudio claudio grazie di essere qua buongiorno buongiorno a tutti ti ringrazio siamo molto contenti insomma la community mia la community italiana insomma sta reagendo molto bene a puki gli sta piacendo un sacco e quindi oggi insomma ho raccolto un po' di domande da parte dei miei amici della community insomma inizieremo un po ad andare un po più nel dettaglio di questo gioco che sta diventando sempre più virale quindi ti chiederei subito claudio quando nasce l'idea di puki e perché bella domanda nasce nel nell'estate 2022 ho lanciato il gioco con mio fratello stefano lui giocava molto sui siti di scommesse aveva guadagnato anche abbastanza soldi e quando ha voluto rinfilare i suoi soldi su quelle piattaforme praticamente è stato bloccato perché gli hanno detto che aveva una dipendenza al gioco però nella realtà è solo che stava guadagnando guadagnando troppo e anche guardando le statistiche qualcosa di interessante il 97 per cento della gente scommesse sui su quei siti alla fine perde i soldi perciò solo il 3 per cento sul lungo termine guadagna perché anche se guadagni di solito è difficile ritirare i soldi li investi e a un certo punto li perdi perciò volevamo creare un modello differente dove valorizziamo la gente che ha conoscenza del gioco e che è brava perciò su pucchi se sei bravo puoi guadagnare puoi guadagnare però puoi soprattutto rimanere nel gioco e continuare a giocare è proprio quello che volevamo promuovere un'alternativa ai siti di scommesse tradizionali dove tutto solo si aggira ai soldi volevamo introdurre un gioco dove puoi guadagnare però lo scopo principale è divertirsi fare quello che quello che la gente piace scommettere sulle partite avere un un interesse superiore quando guardi la partita abbiamo anche apprezzato molto apprezziamo molto come community il fatto insomma che pucchi sia una vera azienda web 3.0 quindi molto trasparente questo veramente devo farvi i miei complimenti da questo punto di vista avendo esperienze appunto in giro nel web 3.0 devo dire anche la comunicazione fatta stamani quando voi vedete il video per me il loggio lo stamani è il 27 febbraio 2024 e che avete comunicato intanto il ricalcolo dei rewards stamani ci siamo visti che arrivare qualche pucchi in più che aveva qualche matic in più che aveva vinto quindi e anche poi le novità che avete lanciato stamani quindi in generale devo dire che è molto molto apprezzabile appunto per questo vi chiedo proprio per la trasparenza che avete sempre avuto a che punto è il gioco c'è in salute come il sistema è sostenibile insomma voi riuscite a rientrarci ecco questa che è una domanda che in tanti fanno sì ma buona domanda come tutte aziende startup all'inizio ovviamente devi investire sulla creazione del prodotto perciò oggi giorno abbiamo investito molto abbiamo dovuto prendere gente con capacità nel gaming nel blog c'è in conoscenza anche del mondo dello sport perciò stiamo costruendo il prodotto e non volevamo focalizzarsi solo sul rendimento dell'impresa all'inizio però per creare un gioco che piace alla gente e per distruire una parte di quello che noi incassiamo in quanto ai rewards con i matic oggi perciò oggi principalmente il finanziamento della società l'abbiamo fatto in conto proprio e a gennaio abbiamo integrato alcuni investor investitori esterni che hanno raggiunto il progetto non abbiamo ancora fatto una comunicazione ufficiale aspettiamo alcune settimane al momento dove lanceremo quando lanceremo la nostra mobile app perché stiamo lavorando su quello per comunicare per creare più awareness effetto mediatico per avere un impatto più forte al momento in cui lanciamo la mobile app comunque da questo punto di vista l'impresa in salute e poi sulla sua seconda domanda sulla sostenibilità del modello oggi facciamo abbiamo delle reward in matic abbiamo l'idea a un certo punto di introdurre la nostra propria moneta digitale ce n'è già una oggi che si chiama il poch però il poch appunto questo tecnico non la puoi scambiare su un coin basic change eccetera è un solo banto can perciò ti appartiene a te e solo a te non lo puoi scambiare perciò non ha un valore monetario esterno a pucchi l'idea a un certo punto sarebbe di renderlo come dire scambiabile tra giocatore perciò dargli un valore in quel momento lì invece di dare dei matic e dei pochi potresti dare solo una moneta che può essere la moneta che sarà la moneta del gioco e infine anche una moneta in cui dove puoi monetizzare perché la potrai scambiare a conto del bitcoin o qualsiasi altra currency poi pensiamo di dare ovviamente dei dei perks dei benefit specifici alle persone che detterranno il nostro native token in quel modo lì potrai veramente transitare sul modello molto più sostenibile perché ovviamente oggi distribuendo dei reward è una spesa che dobbiamo che dobbiamo fare perciò dipendi anche dalle dalle entrate che ricevi però in un altro quando raggiungeremo quel punto dove introdurremo il nostro il nostro native token in quel momento lì puoi creare proprio questo modello sostenibile sul lungo termine dove distribuisce dei token la gente lo rispende nel local system riparte in quel reward pool da codividere su varie varie leghe speriamo di aggiungere leghe e altre sport nei prossimi non forse mesi perché adesso stiamo veramente lavorando sulla mobile app però più tardi nel duemilaventicinque fantastico fantastico e quando quindi duemilaventicinque dicevi che probabilmente entrerà questo tuo c'è avete un'idea o ancora più o meno non vi volete sbilanciare stiamo vedendo di poterlo integrare da qui alla fine dell'anno nell'ultimo trimestre diciamo che adesso nella nostra timeline prima c'è il lancio della mobile app con un gioco free to play per iniziare dove integreremo una versione un po più estesa della possibilità di giocare gratuitamente e in un secondo tempo integreremo la versione del gioco attuale play and play to earn vabbè dove puoi guadagnare la integreremo nell'app in un step numero due una volta che avremmo fatto quello dopo andremo sullo terzo step che sarebbe lo step di eliminare i matiche di introdurre il nostro native token quello è il goal come dire lo scopo fantastico quindi l'app dobbiamo aspettarcelo a breve la app inizieremo a fare dei test interni sul mese di di marzo poi penso che potremo integrare forse dei giocatori attuali di pucchi sul mese di aprile e poi il lancio sarebbe sul mese di maggio fine maggio inizi di di gennaio prima dell'europeo vorremmo capitalizzare sull'europeo di calcio per fare il lancio e poi ci sarebbe un mese di transizione prima che le leghe europee italiana spagnola inglese riniziassero fantastico rimanendo proprio sulle competizioni come già accennavi te una delle domande che che mi hanno chiesto di farti riguarda un po quelle che sono le prospettive di diciamo così di allargamento oppure no di anche di mantenimento delle leghe insomma che cosa ci puoi dire anche perché molti sono della mia community ovviamente legati tantissimo a asia ma proprio tantissimo e anche e anche ad america quindi ci chiedevamo e mi chiedevano insomma a che punto siamo con quello e quali sono insomma i lanci per il futuro se potete ovviamente dirci qualcosa ma sono curioso di sapere quale sarebbero le leghe che interessano la la tua community ce li ho se vuoi se vuoi ce le ho allora alcuni hanno chiesto la championship ok alcuni hanno chiesto la serie b italiana ok e ovviamente in tanti la key league perché per noi è proprio vita totale insomma tolte ovviamente i campionati i campionati maggiori che interessano che piacciono e che piacciono moltissimo insomma questi sono più o meno e anche la svaite cioè alcune seconde division diciamo c'è seconde divisioni e la key league questa sarebbero i campionati che hanno chiesto in assoluto diciamo che sul radar avevamo prima di pensare a queste queste differente leghe che mi hai appena descritto pensavamo alla all'air divisi perché abbiamo una comunità olandese abbastanza forte ci fanno spesso la domanda la lega portoghese attrae anche abbastanza perché ci hanno parecchie squadre anche che ciocano in champions league e e poi eventualmente la lega belga perché perché abbiamo un team member che è belga perciò lui spinge 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 su quello e con il vantaggio che una lega che inizia abbastanza presto durante l'estate perciò si offre contenuti anche sulla sul momento dove c'è il break quando le lega europee si fermano no no comunque il nostro modello è scalabile per integrare altre leghe in modo molto semplice l'unico punto che integrare una lega vuol dire un po di lavoro tecnico però soprattutto devi andare a comprare i dati di questa certa lega e i dati sono le le schedule delle partite i risultati però anche le quote e quello ci costa soldi perciò devi essere sicuro di avere come dire abbastanza interesse nella community per lanciarlo da un punto di vista economico cioè quello che ci siamo focalizzati sulle le principali leghe però quello che è interessante che il modello soprattutto con il native token quando lanceremo e super scalable cosa vuol dire che puoi aggiungere una lega in modo semplice e l'economia non è impattata al contrario ti da solo un extra interesse perché in quel momento lì puoi vendere palline con quella lega lì perciò c'è un interesse maggiore ci sono nuove entrate i nuovi introiti i nuovi giocatori o di giocatori attuali che vogliono estendere le la loro collection per avere una strategia più più adeguata perciò da quel punto di vista si può fare l'unico punto e sono i costi che dobbiamo gestire in modo certo certo una domanda che ti faccio perché io sono proprio diciamo un neofita del web 3.0 quando quando ci racconti del della della moneta nativa che è sicuramente una prospettiva molto interessante per la sostenibilità del gioco cosa succede a chi ha le palline che invece sono legate a matic non c'entra niente questo sono legati al tuo wallet come funziona così spieghiamo anche neanche a chi ne capisce meno sì praticamente le le pookie balls o i stickers o in uno che compra quelli sono degli nft perciò su quelli sono degli oggetti digitali unici e ogni giocatore li detiene nel suo wallet che ha collegato o nel wallet che ha creato il nostro partner si quelli sono lì rimangono praticamente l'unico cambiamento che ci sarebbe invece di guadagnare dei matic dei pochi guadagnare resti dei pro whatever diamo sì certo chiamiamolo come volete ecco i pros immaginiamo perché la pro sono le pro league paragonate le altre e con i pro cosa puoi fare li puoi spendere nel gioco come spendi oggi poco i matic però è una moneta unica perché oggi è un po complicato a spiegare questo funzionamento su una doppia moneta non è semplice però idealmente dovresti averne una che spendi e se vuoi dopo la puoi anche dal tuo wallet se il tuo wallet è collegato a quelli quelle come dire quei siti di exchange e li puoi convertire la nostra moneta in bitcoin in itero qualsiasi altra moneta digitale no perfetto credo che tra l'altro la semplicità sia uno dei tratti caratteristici eccellenti di questo gioco insomma molto semplice si gioca e anche l'interfaccia grafica del sito comunque funziona molto ci sono ovviamente magari delle piccole cose da correggere ma insomma è un'altra secondo me delle robe che quando arriverà poi l'app aiuterà molto a questa semplicità diciamo che nella app adesso abbiamo messo il full team effort sulla app perciò siamo coscienti di alcune cose che non sono ottimali oggi sul sul sito web però invece di spendere tempo a cambiare il sito web ci focalizziamo principalmente sulla sulla mobile app e io vedo i disegni andare avanti e posso dire che facciamo proprio non un step in avanti però due tre step in avanti ma immagino non sono proprio curioso di vederla e di giocarlo insomma ma rimanendo su questa a questo punto la domanda che ti faccio claudio è da un punto di vista di promozione del gioco come vi siete immaginati noi lancio dell'app e poi le fasi successive cioè ci sarà una campagna di marketing come vi siete immaginati il futuro per lanciare bene bene il gioco sì bella domanda noi quello che vogliamo il successo di un gioco sul lungo termine è basato soprattutto sul sugli utenti quelli che giocano al gioco perché alla fine la tua community sono i primi ambasciatori del nostro del nostro progetto perciò noi vogliamo proprio creare una condizione favorevole per loro per avere un'esperienza di gioco fantastica e quello per quello che lavoriamo sulla sulla mobile app per ammigliorare la loro esperienza di gioco perché consideriamo che il miglior modo per diventare virale e avere gente a chi piace il gioco perché se ti piace il gioco ne parlerai al tuo amico il tuo amico ne parlerà altri amici eccetera e quello e così crei proprio questo effetto di massa sul lungo termine poi da un punto di ovviamente devi sostenere questo con certo budget marketing poi sul marketing stesso quello che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare e utilizzare gente appassionata dal calcio e dai giochi e o della blockchain e trovare gente che sposa i nostri valori da così di averli integrati come partner e promuovere parlare del nostro del nostro del nostro progetto più che promuovere veramente parlare che vogliamo non solo hai visto anche te che giochi giochi a pucchi e il fatto che tu giochi al gioco lo riesci a spiegare meglio lo capisci trasmetti anche i valori ed è proprio questo modo sano che vogliamo sviluppare che che congiunge un po con i nostri valori il fatto di creare un gioco che sia divertente safe adesso non mi viene la parola chiarissimo anche safe chiarissimo safe nel senso che non rimanere in controllo di quello che spendi perché sui siti di scommesse spendi con il rischio di perda se perdi rimetti dei soldi se guadagni rimetti lo stesso perché vuoi essere contento ma questo è assolutamente percepibile Claudio anche dal fatto ad esempio che pucchi è integrata appunto con metamask e con vari wallet e compari che possiamo poi utilizzare per fare mercato su open sea ad esempio questa è un'altra delle cose favolose che ci sono cioè la possibilità di interagire con gli altri utenti direttamente grazie pensi e scambiarci le palline comprare gli sticker insomma questa è un altro va sicuramente molto 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 interessante e quello vogliamo andare ovviamente più più a fondo di integrare una marketplace all'interno certo favorizzare gli scambi per dirti io stesso adesso abbastanza lavoro tempo di di fare del player del trading palline su open sea però se ci fosse la possibilità nella app di farlo lo avrei l'avrei fatto me stesso perciò sono sicuro che ci sono un sacco di altre persone come dire che ragionano come me e se adesso la possibilità di andare sul tuo profilo vedono uno sticker che gli piace con un click dicono a un offerta ecco ti faccio un offerta tot tu l'accetti o fai la contro offerta questo stimolerebbe molto gli scambi tra giocatori renderebbe il gioco e l'economia di per sé perché al di là del gioco dove tu fai una predizione su una partita per renderlo sostenibile devi creare tutta un'economia che alla fine è come un'economia reale dove c'è un principio di base e attorno crea un sacco di dinamiche e noi in quanto società siamo come uno stato dove prendiamo una tassa su tutte le le transazioni per fare a modo che il modello sia sostenibile e noi come uno stato creiamo le infrastrutture per poter facilitare alla gente di divertirsi e di spendere soldi o di creare anche valore attraverso le la progressione perché puoi investire nelle tue palline farle passare di livello c'è la meccanica di ascensione quando i due due pallini di una certa rarità arrivata al massimo livello li puoi congiungere fusionare insieme quello ti permette di andare alla prossima realtà è lì in quel momento lì il giocatore ha creato valore qualcosa che che veramente fondamentale nella nostra economia di gioco che ridà il valore al giocatore e non solo la piattaforma pucchi e questo modello veramente differente quando lo paragoni al mondo del web 2 dove queste entità centralizzate prendono e captano tutto il valore dei giocatori non la nostra idea di ovviamente di avere un modello sostenibile per noi perché dobbiamo continuare io devo pagare stipendi e tutto però allo stesso tempo vuoi dare dare indietro alla comunità sì anche questa cosa di levare ad esempio la stagionalità dalle palline il fatto quindi di poterle utilizzare tantissimo senza bisogno che qualcuna valga più degli altri anche questo è proprio un concetto molto molto interessante che sta anche dentro a quello che ti dicevi non ti voglio rubare altro tempo ti faccio l'ultima domanda da qui ai prossimi cinque anni come vedi pucchi cioè come lo vedi il futuro da qui a cinque anni del progetto bella domanda no da qui a cinque anni ovviamente noi avevamo sempre l'ambizione di creare un gioco molti sport su tutti gli sport all'iniziato con il calcio perché è più popolare eccetera eccetera però io sono un grande appassionato di calcio appassionato dell'inter però adoro anche la formula 1 con la ferrari il tennis appassionato di un fan di gioco vici e anche altri sport sciato ho fatto molto scio ho fatto del ciclismo ho collezionato anche magliettine del del pirata pantani perciò c'è una c'è una cultura sullo sport abbastanza approfondita e ovviamente il mio mio sogno è di avere un gioco globale che copre tutti gli sport perciò fra cinque anni ovviamente vogliamo coprire tutti sport poi ci sono anche i sport americani io li seguo un po meno però lo so che nella nostra community ci sono molti fan di di basketball di nfl ncl e ci sono un sacco di cose da scoprire poi il bello che ci sono sempre più attività più competizioni e il bello di pucchi che noi non creiamo le competizioni però creiamo un gioco sul gioco reale e quello è certo l'idea proprio di coprire tutti gli sport sviluppare altri giochi quello anche per provare proprio creare una piattaforma di intertenimento globale con l'idea a un certo punto di andare ancora più nella fase interattiva con lo sport non perché oggi siamo sulla predizione prima e poi al risultato dopo certo dobbiamo integrare il live scoring essere molto più integrati nel nel nell'evento nell'evento stesso fantastico e io ti ringrazio claudio saluta salutiamo i nostri amici salutiamo claudio a tutti ciao ciao ragazzi a presto continuate a giocare a pucchi ciao 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 ciao